Cominciamo dall'Ariete. Non è mai troppo tardi per riscoprire il piacere di stare in casa, distesi e rilassati sul divano davanti alla televisione. Avete dei veri amici, ricordatevelo. Toro, se il buongiorno si vede dal mattino, questo sabato si pronuncia davvero brillante per la maggior parte di voi. Entusiasmo, dialettica, chiarezza di idee e fascino in quantità industriale saranno le vostre armi vincenti. Gemelli, un po' di stanchezza arretrata è da mettere in conto, considerando le vibrazioni dei pianeti di questa giornata. Lasciate quindi perdere i programmi più stressanti e dedicatevi solo a cose belle, piacevoli e soprattutto rilassanti. Cancro, tutto procede per il meglio, esattamente secondo i vostri desideri, riuscendo a consolidare in molti casi la vostra posizione professionale. Una serata movimentatissima busserà alla vostra porta. Leone, potrebbe essere il giorno giusto per far luce su diverse cose. Occhio al denaro in uscita, potreste non badare le spese e godervi la vita senza troppi pensieri. Dedicate più tempo a un progetto che vi sta a cuore. Vergine, con l'energia che vi ritrovate, riuscirete ad essere attivi per molte ore di seguito e a portare a termine una notevole mole di lavoro. Bilancia, anche se tutto andrà per il meglio, sarete incontentabili. Nulla sarà di vostro gradimento. Dosate bene le vostre energie, evitando sforzi fisici non necessari e rinviando gli impegni meno urgenti. Scorpione, come vi sentirete oggi? Come se toccasti il cielo con un dito, tanto tutto sarà assolutamente perfetto. Si annuncia quindi uno splendido inizio di weekend. Sagittario, staccate la spina se avvertite stanchezza o solo il desiderio di analizzare con calma una situazione. Potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona su cui avevate puntato. Capricorno, se siete in conflitto con la persona amata, sciogliete ogni rancore e mettete da parte l'orgoglio. Il fine settimana è troppo bello per poterlo rovinare con tensioni. Acquario, gli astri sconsigliano le alte velocità, gli eccessi alimentari, le operazioni finanziarie a rischio. Godetevi pure la vita nei suoi aspetti migliori, ma senza esagerare. Pesci, grande festa nel vostro cielo grazie agli astri. Splendide gratificazioni vi attendono un po' in tutti i settori, lavoro, amore e amicizie.